Le donne oggi non si trovano la pari degli uomini con le stesse opportunità nel mondo economico, nel mondo lavorativo, nel mondo politico. Ecco perché invece oggi è prioritario dare concretezze e possibilità affinché l'Italia davvero raggiunga quella piena parità. Questo significa regole del lavoro paritarie, significa valorizzare i talenti del femminile, le carriere femminile, le contribuzioni del lavoro femminile. Significa nell'ambito del Family Act finalmente aver messo al centro il protagonismo delle donne, la piena libertà di una donna di poter scegliere di essere una madre e nello stesso tempo di portare avanti un'esperienza lavorativa anche magari importante di carriera.